Ciao Enrico, puoi fare una pizza per noi traurici Youtube, è certo che te la faccio E viene, viene a piesta a me, ma stavolta non iniziamo dalla stesura della pizza bensì dal condimento, e allora all'interno di un frullatore, noci e fiori di zucca frulliamo il tutto fino ad ottenere una miscela quasi perfetta versiamo il contenuto all'interno di una crema di ricotta con un leggero filo d'olio extraveggile un pizzico di pepe, un pizzico di sale ecco il nostro pesto di ricotta, noci e fiori di zucca e ora stendiamo il disco di pasta sottile e senza cornicione stendiamo il contenuto all'interno e andiamo ad arrotolare tutto fino ad ottenere un tutto ma lo è qui, ecco il tubo che ti è io, magari, che lo tubo è l'idraulico un filo d'olio extraveggine e hopla, in forno, cottura lenta, docile e mai aggressiva il tubo è pronto e va sfornato, sì, ma va anche completato allora, fette di prosciutto crudo in quantità, rucola selvatico bio, una pioggia di grana padano a scaglie pomodorini, tazzarini siciliano e ancora un filo d'olio guardate quanto è bello, guardate quel spettacolo dice la verità muai, quanto è bello questo tubo però chissi non il tubo ah sì, ora ci pensi pronto? chi è l'idraulico? senti che stai venendo a casa mia perché c'è tutto il tubo però voglio il stesso tubo dell'errico mamma che stai venendo va bene ok pulite mamma perché il tubo è rucco ah, pulo tubo, sa da sapere fa' eh sì, semplice ed efficace replicate ma non imitate perché pulo l'idraulico sa da sapere fa'